Buongiorno Ogni giorno Dove stiamo andando Maru? Dalle donne Allora stiamo andando al venue a fare le foto Ok, è eccitato Ottimo Sei contenti di questo media day ragazzi? No, come sempre Non devo fare l'intervista e va tutto bene E se devi farla? E se devo farla, panico da fare La fa Joker, ma in italiano la fa Ragazzi sono freschissimi Ci hanno messo il trucco di m***a in faccia Dai basta, la fingi di dire queste parole Abbiamo fatto il trucco, abbiamo fatto le foto come sempre Basta Ah ok Adesso Adesso andiamo a fare le interviste di m***a No dai Adesso andiamo a fare le interviste Chi la fa? Tutti Tutti Se devi fare un segno non sapevo cosa fare Albi Cosa hai fatto? Ho fatto così Ma cosa stavamo fatto? 3M si porto Così Che cazzo di segno? Un segno di una gang Adesso magari si Ti ho messo 3 minuti per il make up Stra veloce Senza dire una parola perfetta 15-20 secondi per le foto Una da avanti, due in diagonale Che cosa hai fatto? La mia solita Che cosa hai fatto tu? Ah, bravo Preso Andiamo, forza ragazzi Si gioca In tutte le regioni È come un'era per tutti Quindi ogni squadra ha la possibilità di diventare il campeonato Si, esatto Se vengono questo giuramento In 20 anni Possiamo guardare e dire Oh, siamo i primi campeonati SPS Credo che sia un momento davvero grande Perché è questo che fa dobbia dare Bravo Ha 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 Ho messo un secondi a fare queste Si, è stato bravissimo Il più bravo Non mi sono dimenticato all'inizio 3, 2, 1, go Cosa ti hanno fatto fare? Eh, dite una frase Qual era? Eh, beware Attenzione Amici, com'era il meglio di... Meglio dell'altra volta Ok, hai sofferto poco Ma... Si, è proprio imbarazzante Haidark ha fatto l'intervista Quindi quella era la cosa più importante Com'è di avere il pass? Spera che non c'è Dio, il mio dov'è? Il mio dov'è? Il mio dov'è? Il mio dov'è? Il mio, la prima... Pure il mio non ce l'ho azzurro Ma non c'è No, 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 non c'è Maru, dimmi due parole su oggi Game day ragazzi Siamo prontissimi Siamo caldi Almeno c'è No, c'è No, c'è Ma fammi un loro Questo è il proso No, c'è No, c'è Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! I didn't even see the gems being taken, but he survives it out, and Reply Totem win it! Drive Gaming in A, still managing to hold things back, Joker and Mauro both really with their backs against the wall, poison rather, as they are now forced to move forward into the super, the last call from as Livy it just might be, if they're able to finish strong here, Mauro tries to get that victory on the right side, he just might be able to, as Livy falls, Reply Totem get the win, Totem sweeps in A! Let's go, bro! Come state, ragazzi? Dai, avete vinto! How do you feel, Joker? Very good! Predictions! No, SK vs Crazy Racoon! No, 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 no! Do it! Predictions! Play put a little time by Danoso and get started on the next a week! GM vs is the 7th and then? Sent beliefs in A! How much? I don't know who wins 3, 2, 1 I don't know who wins I think i will be a great match spending time with Christian Racine Falch Predictions match 3, 2, and 3, 4 kleinистing DM vs is the 1 battle for thero Grazie a tutti! Che prego fallo vedere ragazzi KitKat, KitKat rosa Bello, buono Siamo arrivati alla squadra Come un team di top 1 del gruppo Quindi rimanere il top 2 del gruppo A Che è un gruppo del gruppo, ragazzi E spero che vi allungeremo un buon team per noi E andiamo a prendere la giunta Come va? Sì Guardiamo 0-0 Secondo me Quindi se questa è la mentalità inversa Capito psicologia inversa Che buffa magari diciamo 0-0 No, 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 no Ho provato, no, no Ho provato, no, no Ho provato Come ti senti per oggi? È più quarto, ragazzi siamo pronti Colazione fatta È lunga B05, B05 Si opera è best of five per best of five Tosca E' bello Però Un problema È una perda Non troppo È una perda Noi È una perda È una perda Solo 10 secondi più tardi, Sonny! Chokera in defensa, Mauro e Amaro vanno fuori da Spawn, Crazy Raccoon con il ultimo potenziale di push-up qui. Tensai falla, Moya, uno scopo, due secondi più tardi e poi torna Rappai Totem vanno contro Crazy Raccoon. Devono andare in la finale finale. Top 2, eh? Easy! Easy, eh? Easy, un caro! Bravi! È l'ora, come ti senti, Meru! È triste, ragazzi. È triste? Sì, sì. Ma come? Come era strana? No, buon matchup per Mauri, per Joker pure, cioè scegli che altro l'amore. Eh, però... Comunque... Dove solo rimanere vivo più da su. Però bravissimo, Mauri, Joker, a noi. Tenuto, oh, yeah. Ado in film, Joker! Tutte, intervivo, alza lingua. Ieri spagnolo, oggi in presa. Ieri spagnolo hai fatto? Oh, che f***! Madonna, sì! Una bella Coca-Cola! As Livi, also on the right side, now jumping forward, taking the aggro approach, Mauri immediately punishes that and looks to finish things off with Rocket Rain down from the right side. Just a single jump in, a single super in for Mauri, could do it. There's the jump from Joker, and they take set number three! The biggest enemy right now is the lack of visibility of their enemy. Reply Totem know this so, so well. They're keeping Joker on that mid area. Mauri now around the right side, can receive the pass. Just 15 seconds left. Reply Totem beating out the clock. An easy goal into the left side. And only if Tribe Gaming and A can bring this back in the last 10 seconds can they stop this domination. This is gonna be it! No chance of a Tribe victory! They remain the eternal second! And Reply Totem add another first place to their tally and a crown the Snapdragon Mobile Masters Champions! Say hello everyone to your Snapdragon Mobile Masters Champions! How do you film Joker? And we're gonna move! We're a winner! It's the winner! We're the winner! You're the winner! It's the winner! You're the winner! You're the winner! No! No! C'mon! No, no, no